Buon pomeriggio, bentornati live negli studi di Sport Italia. Tornano le partite di questo campionato europeo e torna, come al solito, il nostro appuntamento quotidiano in collaborazione con House of Calcio, ovvero trasformazioni. Ancora una volta tante cose da analizzare e soprattutto oggi ci concentreremo sulla nostra nazionale che scenderà in campo alle 18 per affrontare la Svizzera. Adriano Bacconi, ben ritrovato. Ho parlato di possiamo tornare in grado, questa coppia funziona perché siamo una coppia. Allora, partiamo con il primo video. che vede come protagonista Andoi, anche perché c'è da dirlo, sarà una Svizzera molto italiana, con quattro giocatori. Sì, di cui tre del Bologna. Esatto, tre del Bologna e uno che è il portiere Sommer. E altre conoscenze. Altre conoscenze, certo. Se giocheranno perché poi specialmente, ad esempio, che abbiamo estrapolato proprio da questa partita, perché è importante quella relazione di gioco? Perché dialogando molto, come vediamo da quella freccia, per vie orizzontali, può essere una traiettoria che andiamo a intercettare. Quindi partiamo con la nostra immagine, la nostra ricostruzione. C'è un fallo laterale. Interessante già vedere che, fermiamoci pure qua, Reeder va incontro e Freuler già avanza, già si predispone. Ma guardate, interessante, che sta sulla traiettoria del possibile fallo laterale verso di lui. Invece lui è un'esca. In realtà lui crea lo spazio per Endoie. Se ne andrà da quella posizione, questa è una costante, è un trucco, diciamo, che si ripeterà spesso. Lui spesso si mette nel mezzo, sulla traiettoria del passaggio, verso l'attaccante che ha le sue spalle. Andando via, poi porterà Ebischer. Io ho messo nel radar Endoie ed Ebischer, che sono insieme a Schaka i giocatori chiave di questa azione. Andiamo avanti per vedere cosa deve fare l'Italia. Endoie, il retropassaggio a Schaka. Schaka di prima, praticamente subito, quasi al buio, fermiamoci qui, per Ebischer. Quindi prima abbiamo visto Freuler, che naturalmente nasconde le intenzioni di quello che vuole fare la Svizzera. Ma io sono sicuro che Spalletti quelle intenzioni le ha studiate e quindi dovranno essere bravi i giocatori a leggere quelle intenzioni preventivamente. Allora, andiamo avanti perché analizziamo un'altra situazione che è stata messa in campo proprio dalla Svizzera, un'altra azione contro, ovviamente, un altro avversario. L'abbiamo chiamata transizione artificiale. È una cosa che si vede spesso fare, una cosa molto interessante, che sono il 13, Rodriguez molto alto ed Ebischer di nuovo laggiù. Nostra zona da colpire è quella alle spalle di loro due, in quella zona sul centro-destra. Lì dovrà partire Chiesa, penso che giocherà lì, dovrà andare a attaccare quello spazio. Andiamo pure a vedere l'azione che abbiamo scelto per questa partita perché si vanno a delineare punti di forza e punti di debolezza della Svizzera, che è un giocatore che ha imparato anche tanto, secondo me, da Xavier Alonso nel Bayern Leverkusen. Ha quindi anche esperienza internazionale. La palla arriva proprio nel corridoio, finiamo pure l'azione e ci ritrova di nuovo in doie davanti al portiere. Poi in doie è bravo anche a dire quali sono i meccanismi segreti da intercettare. Poi analizziamo anche un contropiede che ha subito la Svizzera. Per quale motivo lo andiamo ad analizzare? Perché è quello che vogliamo fare noi. Ovviamente, su cosa dovremo puntare, ovviamente sulle cose che vi abbiamo mostrato fino ad ora, ma anche sul contropiede, di altronde siamo in Italia. Noi abbiamo visto, sì, ma abbiamo visto due azioni dove entrambe le uscite potevano essere previste. Per cui sicuramente quella è un'arma, siccome a loro gli piace costruire il gioco, hanno giocatori tecnici, hanno un'altra cosa. Commentare una bella vittoria, speriamo di non dover parlare di infarti rischiati nella serata di oggi. Io ringrazio Adriano Bacconi e vi ricordo però anche che potete seguire tutti i profili social di House of Calcio, dove ritrovare tutti i contenuti, anche la nostra puntata in maniera integrale. Grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento. Ciao. Ciao.